Nel video di oggi analizzeremo alcune battute di Ryan Reynolds e Ricky Gervais. Così avrai delle tecniche su come far ridere le persone in un modo che amino stare con te. Va detto che ci sono due tecniche di base che puoi usare per far ridere quasi tutti. La prima si basa sulla sorpresa. Spesso infatti ridiamo quando qualcuno riesce a ribaltare le nostre aspettative. Per esempio, guarda questa clip in cui Ricky sta conducendo i Golden Globes. Questo è un esempio di inganno della sincerità. Crei delle aspettative e gli altri pensano che direi qualcosa di sincero. E poi non mantieni queste aspettative per ottenere una risata. Vediamo anche un altro esempio. Ascolta Ryan Reynolds mentre parla dell'avere Hugh Jackman in Deadpool 3. Queste battute basate sull'inganno non sono limitate solo a queste che hanno a che fare con la sincerità. Per esempio, ogni volta che ti viene fatta una domanda con una risposta ovvia e vuoi far ridere le persone, puoi trasformarla in una battuta dell'inganno. Vediamo un esempio divertente. Guarda Ricky mentre parla con Pierce sulla questione armi. In pratica ruba la sua impostazione parola per parola. Se erano fuori fuori e avevano usato una scuola, solo perché hanno perduto la sua scuola, perché devono perdere il giro di costituzionale per continuare a avere una scuola? Sì, è una scuola difficile, ma la risposta è perché non possono vedere cosa stanno scuolando. Se vuoi provare queste battute inganno nella tua vita, c'è un piccolo trucco che puoi usare per ottenere una grossa risata. Fai una pausa di un secondo prima di arrivare al punto. Quando fai una pausa, le persone cercano inconsciamente di completare la tua frase nella loro mente. E tutto diventa ancor più divertente quando sovverti le loro aspettative. Se tutto questo ti sembra troppo difficile, c'è un modo ancora più facile per far ridere qualcuno sorprendendolo. Aspetta che qualcuno ti faccia una domanda, pensa cosa si aspetta che tu dica, e poi prova a dire l'opposto. Ricorda qui, quando non riesci a pensare alla risposta perfetta, puoi far ridere le persone anche con una risposta assurda. Is it true that puberty didn't hit you until like you're quite old? Like a week ago, yeah. When you started kind of being interested in girls, you weren't as that cool or smooth with it. No, no, no at all. Oh, I don't believe it. No, 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 I really, I went through puberty at like 27. You've lost a lot of weight. Thank you. How have you done it? Tell me a secret. Steroids and AIDS. Ovviamente, non basta dire semplicemente qualcosa di strano che non abbia senso. La chiave è chiederti, qual è la cosa più assurda che potrebbe in qualche modo rispondere a questa domanda? Oh, no, ma tu sembri così caldo. I know, ho avuto alcuni di tue eroine. Oltre alla sorpresa, c'è un secondo modo in cui puoi far ridere le persone, ed è l'essere specifico. L'obiettivo qui è quello di creare un'immagine mentale divertente nella mente della persona. Per cui, per esempio, invece di dire che non ti piace guardare i telegiornali, puoi dire qualcosa del genere. Ecco un altro esempio con Ricky. Se dici semplicemente di essere pallido, non otterrai di certo una risata. Per cui, ascolta cosa si inventa lui. But do you ever go on holiday together? Oh, it would be horrible. Just think of the pictures. Me looking pretty cool and sort of tanned. And above, yeah. And the thing, naked, he looks like one of those baby fish. You can actually see through his body. Una piccola notte aggiuntiva qui. Una volta che avrai trovato una battuta che farà ridere le persone, puoi memorizzarla come una battuta di default per il tuo futuro. Comici come Ryan e Ricky sono bravi nell'improvvisazione, ma in realtà riusano spessissimo le stesse battute che hanno avuto successo in altre situazioni. You are the whitest man I've ever met. I imagine naked, you're nearly translucent. Yeah. You can see your heart like one of those little baby fish. Ora, facciamo un salto e parliamo di una mentalità che impedisce a molte persone di essere divertenti ed è la credenza che tu sia un fallito, che tu non sia divertente se le persone non ridono a ognuna delle tue battute. Questa mentalità irrealistica ti blocca dal dire cose che trovi divertenti, perché hai paura che le altre persone non rideranno. Per cui, quello che succede è che ti filtri, il che crea quel sentimento che ti fa sentire bloccato in te. Troppo spesso, infatti, capita di autocensurarsi perché si teme che quello che stiamo per dire non vada bene e questa cosa mina la tua sicurezza nel lungo periodo. Potresti anche non essertene accorto ma è proprio il non censurarsi che permette alle persone più divertenti al mondo di creare un sarcasmo veloce. Per questo esempio voglio farti guardare come Ryan Reynolds costruisce una battuta che poi riesce a far ridere tutti. nella tua vita non avrai la possibilità di provare con tre diversi tipi di battute tutte di seguito ma puoi abbassare i tuoi filtri. Tieni a mente che non tutto quello che dici farà ridere le persone ma così avrai modo di vedere cosa funziona e cosa no. Diventerai più divertente col passare del tempo ti divertirai di più nelle conversazioni. Finora in questo video ci siamo occupati di molte battute sarcastiche ma il lato negativo del sarcasmo è che puoi passare accidentalmente per uno stronzo specialmente quando stuzzichi un po' le persone. Per cui cosa puoi fare per essere divertente e non un bullo? Un fattore importante qui è come le persone incassano le tue battute. Un bullo è qualcuno le cui battute sono sempre rivolte alle persone più deboli o che non apprezzano. Se le persone vedono che fai ironia anche su te stesso si sentiranno meno prese di mira. Questo è qualcosa che vedrai sia Ryan che Ricky fare molto spesso. Per esempio ascolta Ryan mentre parla del suo gin. È un gin americano un po' più semplice che i nostri compagni british un po' più più trincavole. Wow sembra come un pro. Sì, sei davvero bene. Non so niente di gin. Se avessi riuscito la compagnia per vero sarebbe a fuoco. Ricky è famoso per le sue prese in giro brutali ma è altrettanto brutale quando il soggetto delle sue battute è lui stesso. Siamo in giro in giro in giro assolutamente che tu debba essere la vittima di ogni tua battuta ma ricorda che se le persone vedono che spesso ti prendi in giro non la prenderanno sul personale quando stuzzicherai loro. Un altro fattore poi che influenza il fatto che le persone ti reputino divertente o uno stronzo è su cosa ti concentri. Ricky è un comico professionista per cui prende in giro in modo pesante se stesso e anche gli altri ma nella tua vita l'opzione migliore è stuzzicare su qualcosa che non sia un'insicurezza. Per esempio ascolta come Ricky stuzzica Leonardo DiCaprio nella prossima clip e guarda la reazione di Leo. E a dirla tutta dovresti applicare questa gentilezza anche a te stesso. Prenditi in giro su cose su cui non sei insicuro così che tu possa essere a tuo agio in caso gli altri rincarino la dose. Eccoti ora un ottimo esempio con Ryan in cui stuzzica se stesso. Ovviamente Ryan non si vergogna di essere più piccolo di The Rock ed è questo che dà vita a un'ottima presa in giro qualcosa che faccia ridere le persone e che non crei vergogna. Ricorda che l'obiettivo di una battuta non deve mai essere quello di ferire qualcun altro. Rendi le tue battute un regalo che renda più leggere le altre persone. Se lo farai nel modo giusto farai ridere le persone intorno a te le farei sentire bene e ameranno stare con te. Se vuoi ogni tanto utilizzare il sarcasmo ci sta ma è importante mostrare anche il tuo lato gentile. è un'ottima presa facciamo me. Sempre. E' anche in un personal modo molto amici. Vorrei una delle shows, mi hanno detto che ho avuto un po' di cose che mi piace. E' ok? E' anche di questo. C'è un piacere genetale che non si fa nemmeno. Cosa è a fare con lui? Non c'è niente, infatti, con Hugh Jackman. Il è così bello, che fa fare il ragione di essere come come un po' di morte. potresti pensare che costruire le abitudini di cui abbiamo parlato in questo video sia dispendioso in termini di tempo o magari pensi addirittura che sia impossibile per te. In realtà risultare più divertente è molto più semplice di quello che potresti pensare. Con uno schema ben preciso da seguire puoi diventare molto più carismatico in sole poche settimane. Se vuoi sapere il modo più veloce che conosco per portare il tuo carisma e la tua sicurezza a livello successivo devi assolutamente seguire il nostro programma, la Carisma University. È un programma guidato passo per passo di 30 giorni che ti mostrerà come avere una presenza magnetica quando entri in una stanza, come entrare in ogni conversazione con sicurezza e come fare una fantastica impressione su chiunque incontri. Ci vogliono solo dai 20 ai 30 minuti al giorno e avrai anche a disposizione dell'action guide così saprai esattamente come passare dalla teoria alla pratica. Il programma è sequenziale con ogni giorno che si collega a quello precedente. Se deciderei di entrare nella Carisma University avrai anche una garanzia soddisfatto rimborsato di 15 giorni. Potrei andare avanti a parlarti all'infinito del programma e delle sue caratteristiche ma invece voglio farti sentire l'esperienza di alcuni dei nostri studenti. La prima arriva da un ragazzo che dice che la Carisma University l'ha aiutato nella sua vita amorosa e dice prima di tutto ho amato il tuo corso, ho imparato diverse cose. Ad esempio la lezione sui filtri nel modulo delle conversazioni, quella lezione ha cambiato completamente la mia vita. Mi piaceva una ragazza da un anno ormai ma non ci avevo dato peso perché temevo fosse troppo carina per me. Dopo le tue lezioni ci ho provato e ora usciamo insieme. La prossima arriva da un ragazzo che ha fatto dei colloqui per un nuovo lavoro e dice ho fatto dozzine di colloqui in posti diversi per un lavoro dopo la scuola di medicina. Alla fine di uno di questi colloqui il direttore mi ha preso da parte e mi ha detto che in assoluto aveva avuto il colloquio migliore di tutti i presenti e che sarebbero stati felici di avermi nel loro programma. Sono arrivato primo ed ora è il mio lavoro attuale. E quest'ultimo è un commento del corso da qualcuno che l'ha usato soprattutto per migliorare la sua vita amorosa e dice mi ha cambiato la vita. In sei settimane sono passato dall'essere uno studente socialmente goffo con pochi amici ad essere il centro della vita di ogni evento a cui partecipo. In più sono passato dall'avere seri problemi con le ragazze all'uscire con la ragazza dei miei sogni. La Carisma University mi ha trasformato da un introverso solitario che sperava di connettersi meglio con le persone in un estroverso pieno di energia che fa amici ovunque vada. Se vuoi dare un'occhiata al corso non ti resta che cliccare sull'icona che compare ora sullo schermo oppure trovi il link in descrizione. Abbiamo avuto migliaia di studenti nel corso che hanno ottenuto molto e vorrei che anche per te fosse lo stesso. In ogni caso spero che questo video ti abbia aiutato e non vedo l'ora di vederti nel prossimo. Un abbraccio. Grazie. 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 Grazie.